Ecco, Bologna è qui alle mie spalle, perché siamo qui? Siamo nel terrazzino della Graticcia del Teatro Comunale, quindi Bologna vista dal Teatro Comunale. Stiamo per fare uno spettacolo proprio su Bologna, storia di una città dagli etruschi a oggi. Il 15 e 16 giugno alle ore 20, insieme all'orchestra del Teatro Comunale e ad immagini bellissime della Cineteca, l'orchestra diretta dal maestro Valentino Corvino, ripercorreremo la storia di tutto quello che è successo dagli etruschi oggi, proprio di quello che è successo qua. Vedete, da San Luca, le Due Torri, San Petronio, tutta la storia della città. Il Comunale quindi che incontra Bologna e lo racconta. Vi aspetto. 15 e 16.